Perché il Chelsea ha deciso di investire ben 20 milioni di euro per Cesare Casadei e dall'altra parte l'Inter ha realmente un problema con i giovani? In questo nuovo contenuto di Passione Inter andiamo ad analizzare in una prima parte l'affare Cesare Casadei al Chelsea, operazione da 15 milioni di euro come parte fissa che andranno subito all'Inter più altri 5 sotto forma di bonus per Cesare Casadei per arrivare ad un massimo ovviamente di 20 milioni di euro che l'Inter potrebbe percepire dall'intera operazione. Dall'altra parte vedremo anche se effettivamente come in tanti stanno sostenendo nelle ultime ore l'Inter ha un problema con i giovani e soprattutto il progetto dell'Azzurro è stato comparato con quello rosso nero che viene presentato come un progetto perfetto adeguato per i giovani mentre l'Inter viene criticata per avere la medietà più alta se consideriamo tutta la rosa dell'intero campionato di Serie A. Amici e amici di Passione Inter ben ritrovati come avrete avuto modo di capire ci sono tantissimi temi tanta carne al fuoco e passo passo andremo a parlare con voi di quanto anticipato in questo nuovo episodio prima di iniziare però vi voglio ricordare l'appuntamento di questo pomeriggio come ogni giorno in diretta su nostro canale YouTube a partire dalle 19.30 dovrete essere iscritti al nostro canale per cui se non l'avete fatto ancora vi invito ovviamente ad iscrivervi al canale YouTube di Passione Inter ma noi iniziamo e andiamo a rispondere alla prima domanda perché il Chelsea ha deciso di investire tanto per Cesare Casadei i motivi fondamentali sono due vale a dire innanzitutto perché il ragazzo è forte e perché ha dimostrato in un campionato primavera che comunque è distante ancora parecchio rispetto a quello della Serie A però ha dimostrato ecco di avere la stoffa da campioncino ricordo un po' di numeri 14 reti nella regular season lo scorso anno in primavera più un gol segnato nella finalissima playoff contro la Roma che ha consegnato poi lo scudetto all'Inter per cui un totale di 15 reti stagionali e stiamo pur sempre parlando di un interno di centrocampo di una mezzala grande propensione al gol però sono 15 reti per un centrocampista quindi ragazzo sicuramente è forte e non lo scopriamo adesso se ne parla bene ormai da diversi anni non solo dopo l'ultima stagione però stiamo comunque parlando di un centrocampista un calciatore che non ha mai disputato nemmeno un secondo con la maglia della prima squadra in una competizione ufficiale a parte qualche minuto negli amichevoli di quest'estate però non ha mai giocato in una competizione ufficiale con la maglia della prima squadra dell'Inter perché dunque il Chelsea spende così tanto banalmente perché se lo può permettere un club come quello come il Chelsea che ha una grandissima disponibilità economica ovviamente quando va a spendere delle cifre così alte rischia di meno in caso di futuro fallimento tra l'altro una cifra così alta perché l'Inter ha scelto di rinunciare appunto al diritto di recompro comunque è stato il Chelsea a non consentire all'Inter di inserire tale diritto dentro l'operazione appunto per avere un controllo totale futuro del cartellino del calciatore per cui è più facile rischiare quando hai così tanta disponibilità economica non è l'unico il Chelsea ma tanti altri club inglesi investono su giocatori che che non hanno mai collezionato un minuto con le prime squadre dei rispettivi club lo fa lo United il City ma lo stesso West Ham insomma in Premier League non lo scopriamo oggi c'è una capacità di investimento sicuramente superiore per cui si abbassa il rischio di un eventuale fallimento nel momento in cui hai così tanta disponibilità speriamo in ogni caso che Casadei possa rispettare quelle che sono le premesse perché un giovane veramente tanto forte e gli auguriamo il meglio in questa nuova esperienza in Premier League anche se con molta probabilità non rimarrà subito nella prima squadra del Chelsea però potrebbe essere subito girato in prestito a qualche altra formazione per cercare di metter su un po' di esperienza perché l'Inter invece ha ceduto Casadei direi che ci sono 20 milioni di euro di motivi per dare una risposta a questa domanda era un'opportunità troppo ghiotta se poi mettiamo dentro anche il momento complicato che l'Inter sta vivendo la necessità di dover incassare quei famosi 60 milioni di euro entro il prossimo 30 giugno evidentemente insomma che arriva una proposta da 15 milioni di euro più 5 di bonus per un giovane che è tanto promettente ma che non ha mai comunque giocato delle partite importanti vero che l'Inter non lo ha mai messo alla prova ecco quindi non abbiamo la dimostrazione effettiva però è comunque un'offerta importante una di quelle offerte irrifiutabili per un giocatore di questo calibro di questa di questa età nella seconda parte di questo contenuto rispondiamo alla domanda l'Inter ha realmente un problema con i giovani una domanda della quale si è discusso tantissimo nelle ultime ore sui social ma anche nel nostro club nel club di Passione Inter ne approfitto dunque per ricordarvi le modalità per abbonarvi e dunque entrare a far parte del club di Passione Inter vale a dire andare sul sito www.passioneinter.club e lì trovate i vari pacchetti per entrare a far parte della nostra grande famiglia avere poi tutti i vantaggi le agevolazioni che trovate appunto dettagliate sul nostro sito tra cui eh l'ingresso nel nostro club sul discord ma anche la possibilità di entrare tutti i giorni in diretta con noi nella live delle diciannove e trenta però andiamo a parlare di questa statistica di cui si è parlato tanto nelle ultime che riguarda la media età dell'Inter vi condivido questa schermata perché questa è la statistica che fa riferimento alla media età della rosa complessiva nel caso dell'Inter vengono considerati i ventisette calciatori che ad oggi fanno parte della rosa disposizione di Simone Inzaghi perché è stato tanto elogiato il Milan eh il progetto giovane del Milan rispetto a quello nera azzurro se poi però andiamo a vedere l'età media complessiva di tutta la rosa l'Inter è vero la media età più alta di tutto il campionato con un ventisette virgola tre però allo stesso tempo il Milan non è che sia tanto lontano rispetto all'Inter con un ventisei virgola sei per cui ci sono pochissimi punti percentuale eh che separano l'Inter dal Milan per cui la narrazione che è stata fatta nelle scorse ore poi nei numeri nel nei dati non non si riflette se poi andiamo a vedere anche il numero di stranieri visto che l'Inter storicamente è sempre è stata criticata per aver investito poco nei calciatori italiani di più in nei calciatori stranieri in realtà in questo momento l'Inter con diciassette stranieri ne ha addirittura cinque e meno rispetto al Milan ma va detto che il trend è cambiato da quando è arrivato soprattutto Marotta in dirigenza l'Inter ha investito tantissimo nei calciatori italiani con l'obiettivo di creare proprio un blocco tutto fatto di italiani questo per quanto riguarda eh la media età della rosa se poi andiamo a vedere e anche questo dato è stato criticato la media età della formazione delle formazioni iniziali della prima giornata l'Inter fa registrare la seconda media età più alta alle spalle del Bologna e vi mostro adesso anche subito la schermata l'Inter si trova come dicevo al secondo posto eccola eccola qui questa riguarda la media la media età del dell'undici iniziale della prima giornata Bologna primato con un 29,8 l'Inter appena dietro con 29,1 chiude il podio la Juventus 29,0 anche questo numero è stato ampiamente contestato all'Inter vanno però fatte delle precisazioni perché se ci soffermiamo a parlare dell'undici iniziale va detto che contro il Lecce Inzaghi ha presentato due novità vale a dire Darmian al posto di Dumfries e l'altra di Marco al posto di Bastoni eh se dobbiamo dunque considerare proprio l'undici titolarissimo dell'Inter Bastoni e Dumfries non possono essere stromessi con Bastoni e Dumfries la media età dell'Inter eh eh andrebbe sul ventotto eh virgola zero dunque appena tra Roma e Lazio andrebbe a collocarsi Roma con 27,7 Lazio 28,1 l'Inter con Bastoni e Donbastoni e Dunfries andrebbe a quota ventotto eh ad alzare ovviamente la media dell'Inter c'è Samir Andanovic che ha compiuto trentott'anni lo scorso quattordici luglio per cui comprensibilmente ecco con i suoi trentott'anni la media si alza prechio se considerassimo ad esempio Andrea Unana come portiere dell'Inter la media età di Nera Azzurri eh scenderebbe a quota ventisei virgola nove diverrebbe dunque la decima formazione del campionato italiano nell'undici iniziale vi ricordo eh poco sopra del Napoli quindi qui Napoli ventisei e otto l'Inter andrebbe a ventisei e nove sotto l'Elas Verona al decimo posto e quindi avrebbe una lettura completamente completamente diversa ma ripeto pur considerando Andanovic l'Inter andrebbe a quota ventotto e non sarebbe comunque tra le squadre con medietà più alta di questo campionato riguardo all'undici iniziale alla formazione iniziale che è stata schierata nell'ultima giornata. Su Onana possiamo anche soffermarci perché se poi andiamo a vedere i portieri titolari delle prime cinque squadre di Serie A se un domani ad esempio Onana diventasse il titolare dell'Inter Andrea Onana sarebbe il portiere più giovane in assoluto tra le top cinque squadre del campionato italiano eh perché Meretta in procinto di lasciare il Napoli dovrebbe arrivare uno tra Kepa e Keylor Navas a prescindere però da ciò con l'addio di Meretta effettivamente Onana potrebbe diventare il portiere più giovane tra le top cinque squadre in Serie A per cui insomma anche questa ovviamente è una anche questo è un dato che va contro le le voci le critiche delle ultime ore dopodiché ehm tornando e riaprendo una riaprendo una parentesi sempre su Casa Dei altra critica che viene mossa all'Inter appunto quella di non aver investito non solo su Casa Dei ma in generale sui giovani che sono usciti dalla propria primavera anche se allo stesso tempo l'Inter insieme all'Atalanta è una delle squadre che negli ultimi anni ha contribuito alla formazione di giovani calciatori che oggi giocano in Serie A eh in Italia l'Atalanta è la squadra che ha formato più calciatori rientra addirittura anche nella top dieci a livello europeo dove primeggia ovviamente l'Ajax tra le squadre che hanno formato più giovani che oggi giocano in quel caso nei top cinque campionati europei però se ci soffermiamo alla Serie A l'Inter è comunque tra le squadre che ha formato più calciatori dopodiché alcuni giocatori possono arrivare anche a vestire la maglia dell'Inter di squadre importanti ad ambire eh per obiettivi altrettanto importanti altri invece comunque vanno a formare a far parte di formazioni della massima divisione italiana ad esempio Andrea Pino Monti che l'Inter la scorsa settimana ha ceduto per venti milioni di euro è ancora un giocatore che ha tutto da dimostrare un classe novantanove in questo momento non aveva spazio all'Inter e comunque l'Inter ha incassato venti milioni di euro che in questo momento sono vitali per le casse nera azzurre dunque è vero l'Inter ha ceduto casa dei quindici milioni più cinque però a giugno l'Inter ha investito anche per due giovani due giovani che a differenza di casa dei hanno già dimostrato qualcosina nel campionato italiano stiamo parlando di Bellanova e Aslani due tra i migliori giovani dell'ultimo campionato Aslani è un classe duemila e due dunque solamente un anno più grande rispetto a casa dei che è un duemila e tre Bellanova è un classe duemila quindi anche in questo caso non è un giovanissimo ma è pur sempre un giovane si è messo anche lui in mostra nello scorso campionato se l'Inter è incassato per casa dei quindici più cinque nel caso di Aslani ha speso pure meno per un giocatore che già ha dimostrato comunque di poter valere la serie A e poter indossare la maglia dell'Inter operazione Aslani la ricordiamo 4 milioni di euro per il prestito oneroso più obbligo di riscatto a 10 totale 14 milioni di euro nel caso di Bellanova invece 3 milioni di euro per il prestito più 7 per il diritto di riscatto 10 milioni di euro per azione complessiva per cui sommando le due operazioni questi due acquisti per due calciatori che hanno già parecchie presenze in serie A l'Inter ha speso 24 con casa dei zero presenza in serie A l'Inter ha incassato 20 milioni di euro anche questo è un discorso da tenere in considerazione e da analizzare quando si parla di Inter e quando si parla di giovani per chiudere questo questo approfondimento questo contenuto sempre su casa dei se l'Inter effettivamente ha sbagliato come in tanti dicono a cedere Cesare Casadei per 20 milioni di euro per cedere lo ripeto un giocatore che non ha mai disputato alcun minuto ufficiale con la maglia dell'Inter in tutte le competenze competizioni il Milan perdendo un anno fa Gigi Donnarumma cresciuto nel suo settore giovanile a costo zero dopo essere stato eletto il miglior portiere e protagonista fra l'altro dell'europeo vinto dall'Italia ha fatto anche un errore noi vi salutiamo e vi ricordiamo l'appuntamento di questo pomeriggio in diretta sul nostro canale YouTube a partire dalle 19 e 30 prima di salutarvi però vi voglio lasciare proprio qui per chi ci sta seguendo su YouTube l'approfondimento di ieri del nostro Simone sulla prima giornata di Serie A vista con degli occhi diversi per chi invece ci segue in podcast vi lascio il link in descrizione a più tardi ciao 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 Grazie a tutti.